Questo avvenimento lo sapevo perché abitando fin dalla nascita a Castelnuovo che era venuto si seppe, però in quel momento erano soltanto poche persone che erano presenti perché vennero all'improvviso, evidentemente vennero con la macchina fin quassù e quindi questi che sono presenti nelle fotografie erano quelli che abitavano in queste case circostanze e basta. Quindi io lo seppe a cose fatte perché sicuramente sarei venuto e basta. Soltanto e poi di questo avvenimento era rimasta, oltre che nella memoria delle persone, era rimasta registrazione nel diario parrocchiale scritto da Don Ciabattini che era il parroco del momento. Quindi lui dice che questo giorno, il pomeriggio dell'11 febbraio, vende quest'ora eccetera, basta non si apre più nulla. Poi io nel 1993 ebbi la notizia che esisteva una fotografia di questo genere perché una signora che abitava qui era stata segnalata da un'amica che era presente una foto in un libro però del quale non ricordavo il nome. Io mi precipitai da questa qui, mi feci prestare la foto, feci la fotocopia e vidi che era stata fatta da fotologhi Firenze. Quindi andai a Firenze, feci quattro viaggi fra provvini e fotografie varie e otteni queste foto, che sono queste, che sono l'unica che testimoniano la presenza di Umberto Castelnuovo. Mi ricordo di poco perché era troppo piccolo, andavo a prendere, era stato a prendere l'acqua.